Eccoci con un'analisi del formato del Mid-Season Invitational 2019. Il torneo vedrà 13 squadre da tutto il mondo competere in tre fasi. Le qualificazioni, i gironi e le eliminatorie. La prima fase, le qualificazioni, si terrà a Ho Chi Minh City dall'1 al 7 maggio. Otto delle 13 squadre, scelte in base a prestazioni passate e forza competitiva, verranno estratte da due pool e suddivise in due gruppi. Parliamo dei pool. Nel pool 1 abbiamo i campioni dello Spring Split o del primo split della TCL della Turchia, la VCS del Vietnam, la LST del sud-est asiatico e la LCL della Comunità degli Stati Indipendenti. Nel pool 2 abbiamo i campioni dello Spring Split o primo split della LJL giapponese, della LLA dell'America Latina, della CBLOL del Brasile e della OPL dell'Oceania. Le squadre si affronteranno in scontri diretti con un doppio girone all'italiana. I vincitori affronteranno poi i rappresentanti della LCS del Nord America o della LMS. I vincitori delle partite passeranno automaticamente alla fase a gironi e gli sconfitti si affronteranno per l'ultimo posto. La fase a gironi inizierà il 10 maggio a Danoi, dove alle tre squadre si uniranno i rappresentanti della LEC europea, della LCK coreana e della LPL. Le prime quattro squadre della fase a gironi passeranno alle eliminatorie dal 17 al 19 maggio a Taipei e incoroneremo i campioni del Mid-Season Invitational 2019. Quali regioni emergeranno? Scopritelo seguendo le qualificazioni dal 1 maggio. Ci vediamo in Vietnam!